salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo video vi spiego come cambiare risoluzione a starfield grazie alla modalità schermo intero del nostro sistema operativo come puoi vedere io sto a 1920x1080 quindi se adesso provo a togliere lo schermo intero metto così 1280x720 e torno un attimo indietro come puoi vedere me lo mette in schedina quindi in finestra quindi in questo caso quello che devi fare è andare un attimo su impostazione schermo intero tasto destro su desktop vai su impostazione schermo intero io da 1080 metto 720 mantengo così le modifiche torniamo su starfield possiamo rimettere così lo schermo intero su starfield e me li blocca a 720 così facendo torno indietro starfield diventa schermo intero con 720 riduco così la risoluzione e farò più fps quindi se questo video è stato utilissimo su come cambiare risoluzione a starfield tipo se te li blocca 2560x1440 e vuoi tenerli che ne sono a 1080 questo è il metodo giusto grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao